Siamo pronti, ritengo che questo sia un piccolo grande evento che migliorerà sicuramente nei prossimi anni. L'amministrazione comunale è impegnata in tal senso perché noi integriamo non soltanto la cultura e lo spettacolo ma anche la riqualificazione urbana, non soltanto nella Bocata Costiera ma anche in altri quartieri della città di Mazzara del Vallo. Questo è il nostro obiettivo, rendere più vivibile la città. Dobbiamo ringraziare tutti gli organizzatori che hanno consentito la realizzazione di questa manifestazione, di questo evento e naturalmente invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare perché sarà un grande evento che servirà soprattutto a rilanciare non soltanto la Bocata Costiera ma anche a far sì che sia da amplificazione nei confronti dell'Italia e la città di Mazzara del Vallo. Noi abbiamo bisogno di questi eventi per incrementare il turismo. Sembra un piccolo evento ma non lo è perché sicuramente dal prossimo anno in poi la Bocata Costiera e la città di Mazzara del Vallo avrà un incremento turistico notevole rispetto agli altri anni. Io ci tengo a precisare che l'arte è l'anima della nostra cultura. Ci sarà sicuramente una Bocata colorata ma ci saranno artisti di spessore. Avremo la chicca del cabaret siciliano, avremo il terreno a rosa domani sera, la seconda sera ci sarà a Castiglia e la terza sera ci sarà a Totetotino. Naturalmente non saranno solo queste disibite, ci saranno altre sicuramente attività come ballo, come il canto, la musica per via dei piccoli, ci sarà anche un gruppo folk che sono i burgisi. Una cosa è certa, stiamo cercando di rendere magica un'estate di tre notti dell'estate mazzarese. C'è l'impegno di tutti, c'è l'impegno dell'amministrazione, c'è l'impegno del Consiglio Comunale, c'è l'impegno di tutte le associazioni che sono qui presenti. Noi cercheremo di dare il massimo, l'obiettivo è quello di promuovere il nostro territorio attraverso l'arte, attraverso la cultura, ma soprattutto attraverso il pane, il pane che unisce i popoli. Questa mattina mi trovo qua in rappresentanza della mia azienda, io rappresento Umica, un'azienda di cosmetica e prodotti 100% naturali, ma di Nitali, totalmente biologici. Abbiamo deciso di sposare questa bellissima manifestazione, questa bellissima iniziativa sponsorizzata appunto da Ciccio Foggia, perché crediamo nell'evento, vogliamo innalzare la nostra cittadina e vogliamo far conoscere le aziende presenti nel nostro territorio, portando avanti la Sicilia sempre più in alto. Io vi aspetto domani alle 18, nello stand nei vicoli di Borgata Costiera. Sarò presente personalmente e vi aspetto numerosi perché è un evento da non perdere. Grazie.